Amici sportivi un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla Pala Rosselli di Aprilia quest'oggi ventesima giornata del campionato di Serie D Girone A lo United Aprilia a fronte Real Latina naturalmente per entrambe le formazioni l'obiettivo è quello di vincere però troppo lungo, non può sfruttare quest'occasione in Real allora Di Giorgio Gran assiste, palla in rete, Pignatiello sblocca Cesaro dentro per Stasino, controllo a Stasino, esce Masullo ancora Stasino, palla fuori, occasione Real Galieti, nuova rotazione in campo Galieti, Galieti va via, fa fuori Mameli poi ancora Galieti di punta Galieti, prova la battuta e palla in rete punizione vincente di Luca Galieti che ha trovato l'angolino pallone dentro, gran parata di Masullo, sud di legge pallone per Mameli, la grande parata di Masullo poi Stasino, Stasino dentro per Ferreri altra occasionissima sciupata allarga il gioco, Bertacchini, può avanzare Bertacchini destro, vola Masullo allora contro piede United, Criscuolo, Pignatiello ancora Criscuolo, poi Cianfanelli Cianfanelli, che occasione per il Tris pallone per Stasino, ancora una grande parata di Masullo migliore in campo Crozzoletto, respinta poi Di Giorgio prova ad andare via Di Giorgio, ancora una gran parata portieri protagonisti, Gregori partita ancora estremamente in bilico nonostante il 2-0 di parziale in favore dello United Cianfanelli, Di Giorgio di Giorgio, grande riflesso di Gregori Crozzoletto, contro piede Crozzoletto, deviazione, palla in rete accorcia le distanze in Real il tiro di Crozzoletto riparte il Real Bertacchini, Bertacchini a campo Bertacchini, la deviazione, il pari del Real Ferreri, 2 pari 2-2 il nuovo parziale qui alla pala Rosselli poi Trobbiani, il palo di Trobbiani che partita di legge, grande occasionissima per il vantaggio Real suggerimento dentro per Di Giorgio sbagliato, ma il break di Pompili miracolo di Gregori per Di Giorgio Di Giorgio, deviazione Pompili ancora un grandissimo Gregori e allora Pignatiello Pignatiello ci prova lui la respinta poi Di Giorgio e palla in rete il vantaggio apriliano ha segnato Orlando Di Giorgio verticalizzazione per Galieti anticipo di Crozzoletto ancora occasione per Di Giorgio che stavolta manda alto Crescuolo dentro per Sacchetti controlla Sacchetti il sinistro sulla traversa parte Crescuolo il destro la parata di Gregori che blocca il pallone Bertacchini grande intervento di Masullo in due tempi questo secondo Galieti il tiro e palla in rete gli arriva la quarta marcatura da parte dello United dentro per Sacchetti Sacchetti ancora un palo per Sacchetti terzo palo poi Stasino palla in rete 4 a 3 non c'è più tempo lo United vince 4 a 3 questa intensissima sfida contro il Real Latina aggancia la capolista Pomezia grandi applausi per i Nerazzurri sempre all'altezza da Fabrizio Agostini un saluto dal Pala Rosselli e appuntamento alla prossima partita grazie a tutti